Musica Sabato e domenica prossima delle 10 alle 18 in piazza Plebiscito ci sarà il Villaggio della Salute e l'iniziativa gratuita Salute per Tutti, promossa dal Comune con il contributo di medici e docenti della Federico II dedicata all'informazione e alla prevenzione. Ha come finalità quello di aumentare la sensibilità alla prevenzione e al benessere da parte dei cittadini ma nello stesso momento è anche un modo per far conoscere ai cittadini, alla comunità napoletana quelle che sono le eccellenze della sanità cittadina e poi visto anche il momento che incombe sempre di più la povertà sanitaria è un'opportunità per i tanti cittadini a poter fruire dei servizi specialistici gratuiti. Avremo tantissimi screening gratuiti, ci sarà una grande partecipazione anche dei nostri professori abbiamo chiesto in Federico II a chi volesse partecipare, hanno risposto 10 dipartimenti dall'ingegneria, alla medicina, alle scienze sociali. Due giornate per effettuare visite e screening diagnostici ma soprattutto per ricevere consigli ed essere informati sulle principali patologie e sull'importanza di sottoporsi a un controllo. E soprattutto nelle aree più complesse e più marginali della città il tema della salute è un tema molto importante perché noi abbiamo tantissime famiglie, tantissime donne, uomini, bambini e bambine che non accedono ai servizi sanitari perché spesso non hanno quelle condizioni familiari anche dal punto di vista culturale che li porta a sottoporsi a degli screening a fare delle operazioni di prevenzione. È un modo per stare vicino alle persone più fragili e più deboli e dare una risposta di salute a tutti.